Di nuovo collegati con il tempio del calcio mondiale, il Santiago Bernabeu, tutto esaurito, tanto per cambiare. Prova subito! Deviazione, nuovo brivido, calcio d'angolo. Ancora lui, Murato, non è finita, tira da fuori, non va. Fantastico, da fuoriclasse assoluto. Nostro secco, rete, rete. Arpione il pallone. Rete, rete. Pubblico impazzito per lui. E' sempre lui, incredibile. Danza sul pallone, incredibile, finta. Riparte provvisamente, 6.003 uomini. Zeratino per lui, prova! Tocca il palo. Tocca il palo. Che l'incredibile! Un destro al veleno a giro, fantastico. Tocca il palo. Ottuca il palo. C'era il palo. Eurofante il palo.